Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa ha pronosticato l'unico partecipante ad essersi qualificato alla quarta fase della puntata numero 6 del club della scommessa. Doveva pronosticare con un commento 9 partite con quota non inferiore a 1,65 se voleva concorrere per un mp3, 12 partite con quota non inferiore a 1,65 se voleva concorrere per un tablet 4GB di RAM, 15 partite con quota non inferiore a 1,65 per concorrere per un cellulare e 19 partite con quota non inferiore a 1,45 se voleva concorrere per un portatile 4GB di RAM e 500GB di hard disk. Ma adesso vediamo quante partite ha deciso di pronosticare. Allora, la prima partita è Schalke 04 Fortuna 2, Endolf 1 a 1,80. La seconda è Stoccarda a Nover 1 a 1,71. Poi Lazio-Roma 1 a 2,49. Tottenham Arsenal 1 a 2,05. Brinkton-Abilon-Undersfield Town 1 a 1,80. Real Madrid-Barcellona 1 a 2,70. Villarreal Deportivo-Alaves 1 a 1,65. Marsiglia-Saint-Etienne 1 a 1,85. Verona-Venezia 1 a 1,86. Palermo-Lecce 1 a 2,23. Napoli-Juventus 1 a 2,21. Perugia-Saneritana 1 a 2,10. Erte-Berlino-Mainz over 2,5 a 1,80. Milan-Sassuolo gol a 1,80. Le partite pronosticate in totale sono 15. Nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, Carlo Rizzi si porterà a casa un cellulare. In caso contrario, il gioco della puntata numero 6 del Club della Scommessa terminerà qua. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!